Due cittadini di nazionalità croata rispettivamente di 40 e 65 anni sono morti alle prime luci dell'alba di giovedì 19 settembre un incidente stradale che si è verificato lungo la A4 tra San Giorgio di Nogaro e Latisane in direzione Venezia nel territorio comunale di Porpetto. Per causa del vaglio della polstrada, il mezzo su cui viaggiavano, le vittime si è incastrato sotto un camion che li precedeva. Entrambi i veicoli stavano percorrendo la corsia centrale delle tre a disposizione in quel tratto. Dopo l'allarme lanciato alle 5.15 al numero unico d'emergenza 112, la centrale operativa Sores ha inviato sul posto il personale di un'ambulanza e l'elisoccorso notturno. Nonostante il prodigarsi dei rianimatori, il cui compito è stato favorito dai vigili del fuoco che hanno estratto le vittime dall'abitacolo della vettura, per i due occupanti dell'auto non c'è stato nulla da fare. Le ripercussioni e la viabilità sono state limitate, considerata l'ora in cui è avvenuto il sinistro. Per tutta la mattinata si sono registrati rallentamenti al nodo di Palmanova in direzione Venezia.